Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, finalmente la patch 8.0.1 ieri è arrivata esattamente in orario e ha portato con sé la nuova mappa del tesoro. Il primo assaggio di quello che incontreremo in questa season numero 8. L'avete provata sicuramente tutti, vi ho fatto anche un video a riguardo, quindi non parleremo della mappa del tesoro in questo video. Parleremo invece ragazzi del regalo che Epic Games ha fatto ad alcuni di noi. Un regalo sicuramente molto molto gradito. Parleremo anche di un argomento che già è passato in secondo piano nella scorsa season e anche in questa season rischia di non essere visto, ovvero sia le statue in giro per la mappa. Anche ragazzi, se avremo tempo, vi farò vedere un nuovo record del mondo messo a segno da un utente proprio nella giornata di ieri. Voglio però ringraziarvi a tutti per utilizzare il mio codice creator XIUDERONE. Grazie mille per il grande supporto ragazzi, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica e nessuna live. Ma prima però ragazzi la domandina, dai, ve la devo fare, ci tengo tantissimo alle vostre risposte, i vostri commenti qui sotto e la domandina di oggi è davvero molto mirata. Come ti sembra la nuova mappa del tesoro? E dai, non potevo non chiedervelo e sapere i vostri pareri. A me personalmente piace veramente un casino, sì, mi piace tanta roba, bellissimo il fatto che la si trova in giro, bellissimo il fatto che corri in giro per la mappa a cercare il tesoro, belli i suoni del tesoro e ovviamente, vabbè, il loot che c'è dentro è un qualcosa, lasciatemelo dire, di leggendario. Voglio sapere invece voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare del regalo che Happy Games ha fatto ad alcuni di voi. Alle mie spalle la vedete, la skin Marshmallow, una delle skin più scioppate nella storia di Fortnite, davvero l'hanno acquistata migliaia e migliaia di utenti. Sapevamo ragazzi che con le sfide di Marshmallow ci hanno dato il balletto, ci hanno dato lo sprite, ci hanno dato il piccone, ma purtroppo fino a qualche giorno fa la skin Marshmallow era stata temporaneamente disabilitata, quindi non si poteva utilizzare. Per scusarsi, Happy Games regala a tutti i possessori della skin in questione un nuovo, una nuova schermata di caricamento e ve la faccio vedere un pochettino più in grande, non è altro che una schermata di caricamento è dedicata al poster di Marshmallow. In questo caso mi dispiace non averla scioppata perché è veramente molto molto carina e poi sapete a me piacciono davvero tanto le schermate di caricamento, quindi se siete i fortunati che avete acquistato la skin in questione, beh allora avete ottenuto sicuramente anche il vostro regalo. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di una cosa molto molto curiosa che è successa ieri nello shop e che apre un grandissimo spiraglio sul futuro degli acquisti di Fortnite. Lo abbiamo visto tutti, ieri sono uscite nello shop le due skin dei contadini, girasole e sementi qualcosa, ma la cosa che ci ha lasciato tutti un attimo spiazzati era la possibilità per la prima volta di acquistare i backpack in maniera separata. I backpack in questione costavano solamente 200 quindi easy, ma la cosa davvero interessante è che se davvero Epic Games decidesse di mantenere questa linea di shop, quindi il backpack separato dalla skin, beh allora è molto interessante secondo me perché se il prezzo della skin è quello detratto dal prezzo del backpack, io sono assolutamente d'accordo nel tenere questa nuova forma di acquisto, mi piace davvero tanto, sono davvero molto molto compiaciuto di questa scelta. Ma andiamo avanti ed eccala qua ragazzi, l'avete riconosciuta che skin è? Dai l'avete riconosciuta subito! Sì ragazzi, per tutti quelli che hanno acquistato la skin punto intermedio, porco mondo non mi ricordo il nome, mi sembra punto intermedio, avranno certamente visto fino a poche ore fa, indicativamente fino a prima della patch di ieri mattina, che non era possibile sbloccare lo stile aggiuntivo che avevano assegnato alla skin. In poche parole gli tolgono la copertura facciale. Beh ragazzi, da adesso, punto intermedio, avevo ragione, da adesso ragazzi se andate nel vostro shop avrete la possibilità di selezionare anche questo nuovo stile per la skin e quindi giocarla in maniera diversa da come siete abituati a fare. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo anche di un tweet ufficiale direttamente dalla pagina di Fortnite, alcuni lo avranno ahimè già provato sulla propria pelle, c'è un bug violentissimo nel fork knife, lo chiamano loro quindi forchetta e coltello scavati nel terreno vicino a lande letali. Ragazzi, non entrateci perché c'è un bug che appena mettete piede dentro una di queste due sezioni di terra, morite all'istante, non si sa bene il perché ragazzi, lol, loro non fixano, ti dicono che non lo devi fare, cioè è un'area di game, è off limit, mi dispiace non andateci, quindi ragazzi non andateci perché altrimenti rischiate di rovinarvi magari una partita per niente. Ma parliamo davvero di una cosa che sta passando troppo inosservata per non parlarne e non capisco perché nessuno ne parla. Le statue ragazzi, le statue di pietra che sono arrivate nella scorsa season, addirittura secondo me nella 6 c'era la statua dell'uomo, questa è la statua della donna che ora non c'è più, che era nell'ex bosco blatterante, statue di pietra che, come sappiamo, questa è lui, l'uomo, hanno avuto già delle modifiche nella scorsa season, nella fattispecie proprio lui si è mosso ragazzi, ma la notizia, sì l'abbiamo detta, nel senso, però non è successo nulla e in realtà secondo me è qualcosa di molto interessante da capire perché ci potrebbero essere delle connessioni alla prossima season, effettivamente se ci pensiamo ragazzi la possibilità di ambientare una season nei giganti, con i giganti, beh caspita non sarebbe affatto male, tra l'altro un'altra grande modifica che è presente proprio con questa patch è proprio come state vedendo ragazzi le nuove statue che cavolo stanno prendendo vita ragazzi nella patch 8.0 quindi quella relativa alla season numero 8, quella di giovedì scorso, c'erano due nuove statue apparse nella nuova location quindi vicino alla città maya che si chiama città maya, adesso ragazzi con l'update di ieri come vedete la statua in alto da sdraiata si sta alzando e quella in basso si è messa seduta, ragazzi non possiamo continuare a ignorare questi chiari segnali che Epic Games ci sta dando e io sono convinto che come stanno facendo per il bunker, che è ancora lì ragazzi, il bunker è ancora lì, se nessuno comincia a dargli peso in giro per il web Epic Games se ne lava le mani, le tiene lì e te le gioca come carta jolly quando non sa che cosa fare quindi ragazzi tanta roba anche per le due statue che non sappiamo quale sia il loro ruolo ma che si stanno muovendo e chiudo ragazzi dicendovi, non riesco a dirvi il world record, dai forse riesco chiudo dicendovi ragazzi che hanno fatto una modifica anche al backpack delle Sun Wings quindi le ali d'oro per la skin che sta per uscire nello shop da epiche sono diventate rare così e il world record ragazzi è attribuito a Sly Leo un giocatore che ha ottenuto 41 kill in solo verso squad distruggendo quindi l'ex record di 39 che era detenuto da ben 12 mesi beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi intanto al canale noi ci vediamo in live, ciao!